Buonasera a tutti ed eccoci al nostro appuntamento serale con il Fuzzimib Tante novità da TradingView La prima è che pubblicazione idee video, limite pubblicazioni raggiunto Boh, registrazione idea privata Adesso capirò come funzionerà Per ora mi limito a non registrare nulla e a capire che cosa è successo Anche perché, anche in questo caso, provare sempre a utilizzare TradingView Causa, Boh Gli utenti possono pubblicare fino a 10 idee al giorno Maggiori informazioni nel nostro blog E' tutto cambiato Vabbè, ok Ce ne faremo una ragione E a questo punto torneremo appunto al nostro grafico Ovvero, vi spiegherò perché oggi non siamo entrati long Qual è la motivazione, anche se l'analisi era corretta Quella di questa mattina intendo Dopo una partura in GapUp Siamo andati a farci anche un bel Oops di Williams Esattamente come segnalato Tra i trader che mi danno più tempo Ai trader che mi danno più tempo E poi abbiamo iniziato a salire Per cui ho iniziato a tenere d'occhio Questo minimo, questo minimo E a vedere come procedeva la situazione Quando siamo arrivati a 24 barre Con questa chiusura Ho detto, ok Vediamo se magari ritraccia ancora un pochettino Sulla media mobile E poi ripartiamo Non lo ha fatto E' andato di pochissimo più in giù Successivamente Violazione di questi massimi Però Immediatamente dopo Questa candela qua Una hammer inverted Hammer Per la precisione Una shooting star Per cui Ecco qui Essendo arrivati a 25 barre Quindi oltre le 24 di inverse Non mi sono mosso Dopo che ho visto questa Oltretutto Si vedeva già La possibilità di avere Una divergenza Ribassista Sui massimi Decrescenti Qui Pari o crescenti Per cui Proprio in concomitanza Di questa candela Della seconda Che peraltro Non ha fatto cose Particolari Superando le Di poco Appunto Il massimo precedente Non mi sono mosso Cosa è successo? Si è ancora saliti un po' E poi si è discesi Per cui Anche se Fossimo entrati Come da proiezione Sopra questo massimo A 18.438 Oppure eventualmente Sopra questo Avremmo fatto cose particolari Anche andando quasi A chiudere sui massimi Prendiamoci la chiusura Di questa candela 18.520 Partendo O da 18.474 Quindi 44 tick Difficile prenderle tutti Oppure da Poco sotto No Non avremmo fatto cose particolari Tra l'altro Non l'avremmo fatto Su Fuzzimib Neanche su DAX Quindi ancora meno Nella realtà Difatti Ecco perché oggi Non abbiamo operato Però C'è da dire che L'analisi postata questa mattina Era di nuovo corretta La tendenza è stata A rialzo E abbiamo aggiornato I massimi Come d'aspettativa Questo però ci induce A capire un'altra cosa Di inverso Ovvero che qui Non si era chiuso Con l'ottavo T-3 inverso Chiusosi qua sopra Questa mattina Il nostro settimanale Inverso Ma probabilmente Stiamo andando a farci Un altro Nono T-3 E questo lo possiamo vedere Tranquillamente Anche da qui Dal grafico Candele giornalieri In cui Eccoci qua Siamo andati A 10 barre 10 barre perché Non 9 Perché abbiamo avuto Una quantità di raccordi Spaventosa Raccordi inversi Peraltro Guardate quanti Ho provato a trovare Squadature alternative Ma non ci sono D'accordo O almeno Non le ho notate E' sempre stato Tutto corretto Il processo Di Valutazione Dei trade Infatti siamo andati Sempre in gain Il problema è che però Con tutta sta roba qua Che distrae Ecco Abbiamo perso Magari delle opportunità E Hanno cercato di buttare Fumo degli occhi A tutti Per cui Domani Potrebbe essere Un buon giorno Per valutare Se non ci prenderanno Troppi punti in partenza Uno shot per la chiusura Del primo T-2 Ovvero Di questo ciclo Partito qua Che ha fatto 1 e 2 T-3 Sta facendo Anche perché Il secondo T-3 E' arrivato A 12 barre Su minimo 24 Quindi a metà Del suo ciclo Già nel caso Di violazione Di questo minimo Ovviamente Andremo Short Ma nella realtà Di fatti Lo dovremmo vedere E misurare Al tempo ciclico stesso Mentre invece Già Osservando l'apertura Capiremo Di che pasta è fatta L'indice E che cosa vuole Eventualmente Partire Di inverso Perché Come detto Essendo arrivati A 10 Si può anche fare 11 Perché qua Se parte il decimo Abbiamo ancora Spazio a salire Vi ringrazio per l'ascolto E vi auguro Una buona serata Sperando di capire Che cosa sta continuando A cambiare E che cosa Continua a modificare In modo da Non perdere Altri Video Perché I video richiedono tempo E a volte Editing Preparazione E perderlo in continuazione Sta diventando Abbastanza fastidioso Grazie ancora E buona serata